Eccoci qui, siamo tornati per parlare, come vedete alle mie spalle, del Festival di Sanremo. Se Mattarella ha fatto il bis, il tris l'ha fatto Amadeus. Ed è stato un tris fantastico, perché guardate, uno può piacere, non piacere, ma quando fai quei numeri, quando fai numeri straordinari che difficilmente, secondo me, potranno essere battuti da qualcuno, vuol dire che hai vinto alla grande. E sono felice perché Amadeus appartiene alla categoria di quegli uomini che hanno avuto trionfi, li hanno vissuti, hanno perso successo, si sono messi, si sono reinventati da capo e hanno trovato di nuovo successo. Quindi sono felicissimo. Poi voi sapete benissimo che Sanremo si porta dietro mille polemiche, quando si lasciano i fiori sul palco dell'Ariston, rimangono su quel palco le polemiche. E ce ne sono state tantissime. Allora la prima, la fluidità del genere, festival fluido. L'omosessualità, la transessualità, il razzismo, addirittura c'è stato il famoso battesimo pagano. C'è una cosa curiosa, forse perché gli italiani si sono rotti le scatole, non c'era satira politica. Grazie.